che lo vede? eravamo a Savona non ti parla male che tu lui ti fa un po' così no no ma Paolo è bravo Paolo è bravo è bravo a giocare la boccetta forse si incazza saluto a Paolo ciao Paolo sei sempre mio amico grande Inter però che è Inter? non pensi a cazzetto è un schiaffo, sai come ti combino è duro i piccolini Mario guarda che è pericoloso il chingo i piccolini sono sempre forti Paolo hai capito? tu che sei un bestione Paolo ricordatelo sei mio amico e gioco sempre bene a boccette non faccio un cazzo ma appunto vado bene ciao Paolone vedi che ti aspettiamo tutti hai capito Paolo? ti aspettiamo quant'è che giochi? io domani sera ma il problema sai cosa è? a boccetto ma non appunto ma la c***o mi frena perché ho paura di sentire ma la braccia mi sono spaccato sai che sto caduto dopo la morte tu sei il palazzetto o no? una squadra? tu che fai parte della squadra facciamo domani sera i campionati italiani e 29 a coppia con Cacca ma sono sera l'uno c'è la staffetta con Casella io Casella con la treccia mi si chiama Sergio con la treccia con la treccia con la treccia grande con la treccia grande ma cos'è una C? è una B ah Mandraccia ah Mandraccia si si